90 minuti per per continuare a scalare la classifica e non solo. Sono quelli che domenica vedranno protagonisti la Sampdoria di Marco Giampaolo, e il Milan di Vincenzo Montella, con gli spalti del Ferrari spronti ad accogliere dei tifosi speciali. Nastro che si riavvolge, è lo scorso novembre. Due furgoni, due camper, due auto, sei donne e quattro uomini. Un viaggio verso i paesi colpiti dal terremoto. Ecco la diesis uniti al centro, la spedizione di Arendi Onlus che nel novembre 2016, ha portato ad Amatrice un carico di materiale di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni vittime del sisma, e, in particolare, alla formazione locale della S.D. Amatrice Calcio. Ideatori ed esecutori in prima persona dell'iniziativa, il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano, e la moglie Manuela, da tempo impegnati in prima persona nel campo della beneficenza e i promotori oggi di un invito speciale per la squadra rietina. Invito raccolto con entusiasmo dal presidente Massimo Ferrero, che domenica ospiterà allo stadio Ferraris 21 calciatori e una piccola rappresentanza di Arendi Onlus in occasione della sfida tra blu cerchiati e rossoneri. Un bel regalo ai giovani calciatori e ad una cittadina ancora oggi in stato di emergenza dopo il terremoto che la colpi la scorsa estate.